Proseguono con successo le iniziative dell'Eco Film Fest, manifestazione dedicata alla settima arte promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla rivista Il Cinematografo in collaborazione con Confindustria L'Eco. Ieri calorosa accoglienza per Paola Turci e Violante Placido che si sono raccontate ai lecchesi dal palco di Piazza Garibaldi. Fulcro del festival la riflessione sulla società odierna attraverso lo sguardo femminile. Penso che comunque ogni donna in quello che fa già in qualche modo si sta battendo anche per le altre donne. Quando una donna comunque cerca di inseguire i propri sogni o comunque cerca di vivere la sua vita in maniera autentica, senza porsi limiti, Gialli sta facendo, se vuoi, una piccola battaglia, sì per se stessa, ma che poi si riflette anche sulle altre donne. Prima del Covid avevo debuttato con uno spettacolo che ho scelto cinque figure femminili della scena musicale, che sono Nico, più conosciuta come Nico dei Velvet Underground, ma anche Nico, per chi ha visto il film Nico 1988 della Nicchiarelli, che tra l'altro credo sia qui al festival. Poi ci sta Marianne Faithful, Françoise Ardì, Yoko Ono e Patti Bravo. Tutte donne che considero delle grandissime artiste e che sono ancora fonti di ispirazione, quindi avevo voglia di condividere un po' le loro esperienze, le loro sfide personali e le loro canzoni con il pubblico. Le piace questa idea di un festival, un po' per riprendere, anche tornare nelle piazze dopo questo periodo difficile, importante per il vostro mondo? E poi era già stata qui a Lecco? No, non ero stata a Lecco e sono rimasta infatti stupita perché siamo a un festival che ha la sua prima edizione, considerando quello che c'è stato fino veramente all'altro ieri, penso che abbiano veramente rischiato molto, ma hanno rischiato per poter fare qualcosa di bello e per poter ricominciare appunto con un segnale di entusiasmo e di positività, quindi gli faccio i complimenti. Giornata fitta di incontri anche quella di oggi con l'atteso arrivo dell'attrice Maria Grazia Cucinotta. Gli eventi proseguono fino a domenica sera per informazioni www.entespettacolo.org.